Nome? Massimiliano. Alessio. Cognome? Presenti. Viola. Professione? Attaccante. Attaccante. Piede preferito? Destro. Sinistro. Vi conoscete, vero? Sì, ogni tanto ci incontriamo in campo. Sì, ci conosciamo sia dentro che fuori dal campo. Raccontaci quei primi passi da calciatore. Allora ho fatto le trafile qua del settore giovanile e dopo ho fatto un po' di gavetta in giro tra Prato, Lumezzane, Canabese e ancora Prato. Dopodiché sono tornato qui. Ho fatto dieci anni di settore giovanile a Reggio con la Reggina, poi sono andato a Monza, a Benevento, sono rientrato a Reggio, poi ho fatto Catti e adesso qui alla Viglia. Al Mino Ness significa? L'Ukana è una squadra in cui sono cresciuto. È una tappa importante per la mia maturazione. Il ricordo più bello che hai in maglia blu-celeste? Esorgo in Serie B nel 2006 a Crotone. Il gol con la Grigionese alla seconda presenza? Il gol più bello che hai segnato? Il secondo gol con la Reggiana. Era un reggino a Livorno, feci l'uomo. Descrivi in tre parole l'altro. Rosicone, simpatico ma soprattutto bello. Introverso nella vita, estroso in campo e soprattutto rompi pari. Cosa gli invidi? I piedi e la bellezza. Carisma e opportunismo. Un consiglio che gli daresti? Stai tranquillo che non è nulla da invidiare a Balotelli. Di continuare così che vincerà il cavo canone. Come reagisce Alessio ai falli dei difensori? E invece lui? Oh, arbitro, è butto lo cuore a questo qui. Come reagisce Alessio e fischi del pubblico? Minchia a voi. E Max invece? Oh, muti, che ora faccio gol. Propositi per il 2014? Fare tanti gol e aiutare l'Albinone F è un traguardo importante. Puntare al massimo obiettivo e raggiungerlo in un modo o nell'altro. Come esulti dopo un gol? Un saluto a tutti i tifosi dell'Albinone F e poi fanno anche in diretta. Tanti auguri di buon Natale a tutti i tifosi dell'Albinone F e di vediamo lo stadio.